Buongiorno 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 Poi vengo Poi vieni Persona di esperienza non viene Buongiorno 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 Allora noi abbiamo preparato Disperato erotico stop Giusto Anche adatto a te Mi sembra Ma insomma Mi sembra Mi sembra Mi sembra Mi sembra Ok Ok Facciamo una storia per uno Si direi di si Io la faccio in spagnolo e tu in francese I sottotitoli chi li fai? Nino del teatro Ora inizio io Va bene? Ok Bravo Non è possibile Mi piace però inizio meglio 3 4 Ti hanno visto bene E' una funta Che non ero mio Ti hanno visto svegliata Nella mattina Piricchina Pirico Non ti sfogliavi neanche la notte Ed era un po' E' 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 un pato E' un po' Io sto sempre in casa, esco buono, so, 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 so Penso delusione da pironi a grandi imprese, a grandi imprese, a grandi imprese A grandi imprese, a grandi imprese, a grandi imprese E' un prezzo eccezionale da mi reta, tutto per essere normale Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sono fermato a guardare una stella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.